E' un appunto! Guarda dentro, uno, due, tre, bravissima, cosi i mappi, guarda dentro, ok. Brava, bravissima, brava, vai un po', cosi, brava Marti, vai, vai un po', brava, brava, guarda dentro, guarda dentro, guarda dentro, brava, vai un po', testo, vai, vai, al centro mettilo prima bello dritto e poi cambi, e uso la voce, vai, vai, brava, bravissima, bravissima, guarda dentro, guarda dentro, guarda dentro, ok, metti la mano giù, bravissima, guarda dentro, guarda dentro, guarda dentro, guarda dentro, vai, vai, aspetta e cambia, Bravissima! Così! Aspetta! Vai! Vai! Brava! Vino a mano, maffi! Galoppa, 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 galoppa! Aspetta! 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 Vai! Vai! Yeah! Guarda dietro! Bravissima! Così! Aspettalo! Aspetta! Vai! Vai! Yeah! Piano, piano! Bravissima! Pazza! Lo scopro di questo concorrente è 70. A seguire abbiamo...